Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Santo Remix Oggi parte il primo contesto ufficiale del canale E' in palio un mese di abbonamento Playstation Plus Voi dite, ma parpone un mese Vi ricordo che se voi riscattate questo codice che io darò al vincitore L'indomani che la Sony rilascia i giochi del mese Avrete due giochi Playstation Plus Due giochi Playstation 3 e due giochi Playstation Vita Quindi ben sei giochi qualora avesse tutte e tre le console Quindi come partecipare è semplicissimo Mettete sotto un commento sotto al video Un bel mi piace e una condivisione Al termine diciamo delle 500 visualizzazioni Io farò un sorteggio casuale Scriverò dei nomi, farò un sorteggio tipo F3 Così cazzo di cane proprio E cliccare E chi uscirà ovviamente avrà vinto il codice Che riceverà via messaggio privato Su Telegram Su Facebook Dove preferisci Io lo porto a casa Il piccione viaggiatore Il gufo di Harry Potter Eccetera eccetera Quindi mi raccomando Ricordo ancora come partecipare al contest Scrivete sotto un commento Qualsiasi tipo anche Ho partecipato Ti voglio bene Mi fai schifo Vi fa la pizza Eccetera eccetera Un mi piace al video E una condivisione su Facebook Quindi mi raccomando E per avere un pochettino di visibilità Per quanto riguarda il canale Essendo che è un canale piccolo Più avanti ci saranno contest molto più carini E differenti Quindi mi raccomando Dal raggiungimento delle 500 visualizzazioni 500 visualizzazioni Non sto chiedendo Se contate i vostri parenti E fate condividere a tutti i vostri parenti Ci arriviamo in due secondi Quindi ci vediamo al termine di questo contest E svelerò con un video apposito Il vincitore di questo mese di abbonamento PlayStation Plus Ciao a tutti ragazzi Dal vostro Sandorimix Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti